Buongiorno, buongiorno. È lunedì 11 gennaio 2016, buongiorno, inizia una nuova puntata con la nostra rassegna, una rassegna che passerà come sempre tanti titoli di sport in questo lunedì, un lunedì che segue una domenica assolutamente nera per quel che concerne le squadre di Serie D, hanno perso tutte e tre le squadre che giocavano contro squadre non abruzzesi, mentre è uscito fuori un pareggio senza gol nella partita tra Chieti e San Nicolò. Poi si è giocato nel calcio a cinque vittorie per l'Acqua e Sapone e per il Pescara e sconfitta invece nel volley in quattro set per la Seco Service Ortona in casa contro Siena. Passiamo subito ai titoli dei principali quotidiani nazionali, subito la cronaca, poi passeremo allo sport. Il Corriere della Sera, Colonia, più di 500 denunce, molestie di massa in Germania, nuovo caso in una discoteca della Westfalia. Palazzo Chigi allontana l'ipotesi di depenalizzare il reato di clandestinità. E poi ancora sotto la testata l'affondo di Renzi su Europa e Riforme, Grillo dimissiona la sindaca di Quarto. In basso le indagini parallele del PM antimafia accuse a Donadio oggi alla Commissione Moro, 119 interrogatori all'insaputa dei colleghi. E poi la fotonotizia che praticamente campeggerà un po' su tutti i quotidiani nazionali, la polemica a Casa Bianca, le parole di El Ciapo fanno infuriare. Pen è l'intervista al boss se l'artista sfida la legge. La prima pagina della Repubblica che apre così, Colonia, attacco pianificato, molestate la donna bianca, e il governo tedesco branconato online colpite 12 città ed una discoteca. E poi anche in questo caso in primo piano i fatti del comune di Quarto, la resa dei 5 stelle, via il sindaco, il diktat di Grillo, noi diversi dal PD, ma la Capuozzo dice non mi dimetto. Ecco qui ancora la fotonotizia, la stessa, El Ciapo, l'ultima follia di Sean Penn, intervista con il boss latitante Washington. Siamo furiosi, l'attore è indagato. E poi in basso, sì, alle trivelle, beffa del Ministero Comuni e Verdi, sarà un inferno bufera sulla Guidi Emiliano, traditi i patti. E poi per il calcio, Napoli rivive il sogno di Maradona, campione d'inverno dopo 26 anni. La prima pagina ora del giornale che andiamo a vedere. Giravolte di Stato, tornano le pensioni anticipate. Il presidente Ips Boeri, chi vuole lasciare prima il lavoro deve poterlo fare. Poi il messaggio ai politici, mi fanno dispetti perché taglierò i vitalizi. Caso Banca Etruria, c'è la prova della truffa dei manager. Poi convivenza impossibile. Germania, un altro raid sessuale in 300. A Capodanno hanno cercato di molestare delle donne in un locale. Poi ancora, così arrivano i farmaci di contrabbando. Tra Napoli e Nizza, una tratta illegale. Sul web il traffico vale 200 miliardi. In basso, la squadra che vince contro l'allenatore. I riferimenti sono alla vittoria del Palermo sul Verona. Verona con le polemiche nel dopo partita contro l'allenatore Ballardini. Di fatto esautorato dall'allenatore, dal portiere Sorrentino. Poi il fatto quotidiano. La prima pagina Etruria. La Boschi perde la testa. La ministra salva la papà e attacca Visco. Ma non doveva restare fuori. E poi sotto la testata. Doni di Stato, la versione di Renzi o solo un Rolex, però tace sugli altri. Replica e conferme sulla rissa in Arabia Saudita. Rottura. Il leader attacca sul blog. La Capozzo non lascio. Quarto. Beppe Grillo ordina le dimissioni, ma la sindaca resiste. Storia di copertina. Così Fonsi ha ucciso la sinistra di Calvino. E c'è un fotomontaggio con il premier Renzi. Poi ancora le amministrative Sala e Marchini. Milano e Roma sono un bell'affare. Chi c'è dietro e perché? Ai due candidati imprenditori. Andiamo a chiudere con la parte nazionale attraverso la prima pagina del messaggero nazionale. Il tempo di attivare il caricamento della prima pagina. Ecco qui, droghe leggere, un nuovo caso. Depenalizzazioni, grana del governo, la coltivazione della cannabis, illecito amministrativo. Escono dal penale anche ingiuria e atti osceni. Grandesanità Renzi non nel prossimo consiglio dei ministri. Lo sport sotto la testata, voli femminili, Paola Oge Egonu, figlia di nigeriani, la nuova stella dello sport azzurro. Il campionato, disastro Roma, Garzia ha i giorni contati e sonero ormai inevitabile. E poi la fotonotizia è sempre la stessa. La stretta di mano tra il Ciapo e Pen. L'attore indagato in Messico incontrò il Narcos quando era latitante. Poi in taglio medio, Cologna, 500 abusi. Il governo ammette una unica regia. A Capodanno sarà ancora il numero delle denunce. Critiche alla Merkel, al via nuove misure di sicurezza. In basso stipendi tagliati, sciopero bianco alla Camera. Ora veniamo alle testate locali e lo facciamo attraverso le prime pagine del centro, iniziando dal centro dell'edizione Aquilana. L'ambulante aggredisce Maresciallo Carsoli, botte da orbi in caserma, scatta l'arresto del 39enne. E poi ancora l'editoriale di Fabio Bordignon, l'Italia normale dei 5 Stelle. Quindi la fotonotizia, la sfida tra paesi, rocca di mezzo, sfiora l'impresa a mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Questa è una foto evidentemente della squadra del paese dell'Aquilano. Poi alcuni richiami di cronaca, chiesti 250 mila euro, licenziamento illegittimo, citato il comune, tutto questo all'Aquila. Lo sport, l'Aquila Calcio, processo sportivo oggi al via. In serie D, domenica amara per Avezzano e Amiternina. In basso Avezzano altre critiche, maggioranza di Pangrazio, sempre più nel caos. Sul Mona, vertenza aperta, calo demografico Ranalli, chiede lo stato di crisi. E poi il Buongiorno Abruzzo, curato questa volta da Andrea Mori, la storia dei jeans nella nostra Denim Valley. E poi la prima pagina di Chieti, dell'edizione di Chieti, un solo medico per 8 mila diabetici. La Asla ancora nel mirino, la nuova emergenza al Renzetti di Lanciano. La fotonotizia divisa in due, derby deludente per il Chieti, parliamo di calcio, e poi per il volley, la siega o sconfitta in casa dal Siena. Richiami di cronaca, Papa Francesco promuove Padre Bruno. In centro storico, a vasto, raid dei vandali contro presepe, vasi e transenne. A Chieti, il cameriere del Führer, Paolini, da Villa alla tavola di Adolf Hitler. E poi, in basso, l'incidente in montagna, bimbo di 4 anni con il Bob, travolge una donna e si ferisce. E poi la partita per Valerio, il River batte il Bucchianico, ma vince solo la solidarietà. Pagina di Teramo, l'apertura. Tercas, noi corretti, no ai rimborsi. La banca si oppone a un ex azionista che chiede il risarcimento. Poi anche qui, fotonotizia divisa in due, Giulianova K.O., ma in coda perdono tutte. San Nicolò, pari a Chieti. Le cronache, comune di Atresilvi, non ci fu truffa al concorso. Due assoluzioni, Alessandrini, i docenti non smembrate la nostra scuola. A Giulianova arriva la RAI, operazione pulizia in centro. E poi, in basso, regione, sottotetti, restauri e condoni. Ecco il salva proroghe, zoo profilattico, prosperi, niente ricorsi contro la nomina di Mattioli. E ora andiamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara, edizione che poi andremo a sfogliare. Ecco qui la cronaca nel titolo di apertura. La cronaca, eccola qui, caccia alla banda dei ladri in casa a Pescara. Anche banconote in Lire, nell'auto bloccata dopo l'inseguimento. La fotonotizia, sempre la cronaca, ma questa volta a Montesilvano, auto incendiata in strada, si segue la pista passionale. Trovata una tannica di benzina vicino alla Smart. E poi, alcuni richiami, domani stop alle auto a Pescara, talghe alterne, orari e prezzi di treni e bus. E poi per lo sport, il patto del trabocco, gli imprenditori pronti ad aiutare la Pescara Calcio. Calcio a 5, i biancazzurri si riprendono il primo posto. Oggi, funerali a Sportone, è morto l'imprenditore Natale, presidente del Pineta Nova. Al convento Michetti, Francavilla, il presepe vivente, calamita. 2.000 persone. Ora entriamo all'interno delle pagine del centro. Intanto la pagina abruzzese, pagina 7. Sottotetti restauri e condoni. Ecco il salvaproroghe, interessati imprenditori, antipubblici e proprietari di manzarde. In ballo anche le concessioni demaniali. Di Matteo, l'assessore regionale, dice, un aiuto al settore. Poi le autorizzazioni, un mese di tempo per il rischio sismico, sarà sufficiente. In basso le parole del vicepresidente del CSM, Legnini, sono contrario all'ergastolo ostativo. Legnini in visita al carcere di Sulmona. La Bernardini dice, si è compiuto un miracolo. E poi, la Val Vibrata segue la moda. Ecco il museo dei jeans, la nostra Denim Valley. Oltre 5.000 paia di pantaloni di tutte le epoche, raccolte da Don De Faller. L'azienda Terramana si appresta a sbarcare anche a Pitti Uomo con tre novità. A Pescara, la cronaca di inseguimento in via del santuario, caccia alla banda che ruba nelle case. I tre giovani dell'est sfuggiti dalla polizia avevano messo a segno un colpo. Nell'auto avevano anche banconote in lire. E poi ancora, andiamo avanti con l'addio a Natale. Imprenditore sportivo, è morto il presidente del Pineta Nova. Aveva 69 anni, la sua squadra lo ha saputo negli spogliatoi prima della partita. E poi, sempre per la cronaca, sequestrata la droga per la Movida. Senegalese arrestato dai carabinieri in Piazza Muzzi. Aveva 16 dosi di hashish. E poi, questo fatto di cui parleremo tra poco anche con Giovanni De Palma, il nostro meteorologo di Abruzzo Meteo. Temperatura oltre i 20 gradi, una domenica di caldo, spiaggia e riviera affollate. Tutto questo appunto nella prima decade di gennaio. Torniamo alla cronaca, auto incendiata con la benzina, si indaga su una pista appassionale. A Montesipano incendio all'alba in via Rasetti, la tannica abbandonata vicino alla carcassa. Distrutti una smart e un cassonetto per i rifiuti. Danneggiata una Ford Ka parcheggiata vicino. Andiamo ora a Francavilla. Folla per il presepe vivente al convento Michetti, successo della ventunesima edizione dell'associazione Verde e Blu. Un centinaio di attori e figuranti, duemila gli spettatori. Il volto santo in pellegrinaggio a Roma, religiosi, volontari e frati cappuccini, sabato 16. La processione verso la chiesa di Santo Spirito. E ora le pagine di Echieti. Forte, chi non rispetta non sa cosa è la giustizia. Al convegno sulla legalità l'arcivescovo non chiede scusa all'azzurro di Stefano. E in città c'è un clima di grande attesa. Padre Bruno sarà promosso cardinale. E poi in basso un solo medico per 8.000 malati di diabete. Asla ancora nel mirino, l'emergenza all'ospedale Renzetti di Lanciano va avanti da maggio del 2015. E poi questa storia quando Paolini serviva patate e legumi a Hitler da Villa Santa Maria alla tavola del Führer. L'eccezionale vita di Salvatore, il cameriere abruzzese che lavorò anche per Heisenhower, Gigli e Carnera. E poi la pagina dell'Aquila aggredisce Mare Sciallo e finisce in cella. Ambulante evaso dai domiciliari, era stato arrestato per spaccio e sorpreso dai carabinieri. Violenta la colluttazione, sono stati necessari degli accertamenti in ospedale. I due feriti sono stati refertati al pronto soccorso. Il commerciante era anche in stato di ebrezza alcolica. In basso centro turistico e comune citati per danni, l'Aquila ha richiesta di 250 mila euro alla causa dell'ex presidente Comola dopo il licenziamento. E ora la pagina di Teramo, banche, niente rimborso delle azioni. La Tercas è stata corretta a risposta negativa alla richiesta di un teramano che ritiene di essere stato indotto in errore. Mi avevano garantito che era un investimento sicuro, ma la banca nega si andrà in giudizio. Si parla di dramma dei risparmiatori. In basso prosperi no ai ricorsi contro Mattiori. Zo profilattico, l'ex presidente invita gli esclusi a deporre le armi e pensare al bene dell'istituto. E poi le parole del consigliere regionale del PD Monticelli. Sì, all'Unione dei Comuni c'errano fino, ma per gradi. Allora, noi finiamo la rassegna del centro, almeno per le pagine di cronaca. Poi vedremo le pagine dello sport. Prima di passare al messaggero andiamo a dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Ambruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E allora, abbiamo visto anche in un articolo del centro, si parlava di ieri una domenica anche da 20 gradi, con tante persone sulla riviera e magari in spiaggia. Insomma, cosa dicono le ultimissime intanto? Diciamo che, Andrea, siamo ancora interessati da un intenso flusso di correnti occidentali che favoriscono appunto un deciso aumento delle temperature, in particolar modo sulla fascia orientale della nostra regione, perché soffia il garbino, il libeccio, venti di garbino, che nelle prossime ore continueranno ad interessare la nostra regione, anzi previsto un'intensificazione dei venti, soprattutto sulle zone montuose e sul versante orientale, con taxiche che, attenzione, potrebbero raggiungere, addirittura superare i 70-100 km orari, in particolar modo sulle zone montuose e sulle zone altocollinari. Questa situazione favorirà degli annuvolamenti sul settore occidentale della nostra regione, quindi sulla Marsica e nell'Aquinano, dove ci potrà essere anche qualche piovasco, ma non ci saranno le nevicate neanche sui rilievi, perché la quota neve è prevista in ulteriore aumento, proprio per l'aumento delle temperature, che non si realizzerà soltanto nei bassi strati, ma anche e soprattutto alle quote superiori. Ma questo aumento, Andrea, sarà temporaneo, perché a partire da stasera, ma ancora più nella giornata di martedì, arriveranno massi d'aria più fredda e i venti ruoteranno da maestrale, e quindi le temperature inizieranno a diminuire a partire dal settore occidentale, dalla Marsica e dell'Aquilano, ma poi anche sul versante orientale, mentre il vento continuerà a soffiare, pur con minore intensità, nel corso della giornata di martedì. Ci sarà spazio anche ancora degli annuvolamenti, più probabili sempre sul settore occidentale, nell'Aquilano, nella giornata di martedì, con delle precipitazioni che stavolta però potranno risultare nevose sui rilievi, perché è previsto un abbassamento delle temperature. Poi pian piano, diciamo che la settimana trascorrerà all'insegna di un cielo nuvoloso, ancora una volta sul settore occidentale, con ampie scarite tra martedì e giovedì, però poi attenzione perché da giovedì pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento, perché arriva una perturbazione atlantica, mentre poi a seguire, Andrea, c'è la possibilità che l'inverno possa finalmente arrivare sulla nostra penisola e sulla nostra regione, perché gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano un possibile cambio di circolazione a favore dei correnti settentrionali, provenienti dall'Europa settentrionale, che se confermate non solo favorirebbero una decisa diminuzione delle temperature, un peggioramento del tempo, ma anche delle nevicate a bassa quota. Ma di questa situazione poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Andrea. Bene, sei stato talmente tanto completo che mi hai bruciato anche la domanda successiva, perché sei andato anche più in là e hai parlato di questo abbassamento di cui si può dire già qualcosa delle temperature che potrebbe portare anche a delle nevicate acute e basse, ma come hai detto ne riparleremo più in là quando ci saranno dati ancora più completi. Sei pronto per la ripresa del campionato di Serie B? Sei pronto a rindossare la sciarpa bianca-azzurra, anche se fa ancora molto caldo. Sì, sì, fa caldo, ma non vedo l'ora che rinisi il campionato, perché insomma il Pescara deve riniziare da lì dove si è fermato, ovvero proseguire il cammino che ha portato a questa striscia positiva, si spera che la continuità, che ci dia continuità a questa situazione, soprattutto dopo aver rinforzato, credo, laddove il Pescara ha bisogno, ovvero soprattutto nel reparto difensivo, ma per questo ci sono gli addetti ai lavori che ovviamente, sicuramente faranno un ottimo lavoro, Andrea. Grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon lunedì. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Bene, proseguiamo e iniziamo con il messaggero Abruzzo, la prima pagina, questa è l'apertura, Targhe Alterne, PD al Bivio, Pescara domani scatta l'ordinanza voluta da Alessandrini e sconfessata dal gruppo consigliare, il sindaco non vuole rischiare il bis del mare inquinato, oggi direttivo nel Mirino oppure il vice sindaco del Vecchio. Sotto la testata lo sport e non solo, l'incontro, l'arcivescovo Forte striglia di nuovo i politici. Calcio di Lega Pro, l'Aquila, oggi a Roma inizia il processo Dirty Soccer. Calcio di Serie D, pari tra Chieti e San Nicolò, Avezzano va a K.O. con la San Benedettese. Poi in Montesivano, fiamme nella notte, paura nel quartiere. La riorganizzazione toccherà Chieti e Avezzano, l'accorpamento dei penitenziari, nuove sedie allargate a Sulmona e Pescara, la Will sul piede di guerra. La fotonotizia, tutti felici per la pista dei tre parchi in bicicletta attraverso una natura affascinante. Tutto questo ad Avezzano. Ompi, ristorazione del parcheggio a raso, finalmente si parte. L'Aquila ha giudicato il Global Service collegato alla residenza sanitaria per anziani. E poi in basso a Teramo, l'ora del silenzio per il Brucchi Ter. Dentro le pagine del messaggero Abruzzo, Mensa e nuovi parcheggi. L'Exompi decolla, affidata alla gara d'appalto da 1,7 milioni di euro per i servizi di ristorazione e gestione alberghiera. Ha vinto un Global Service laziale, colosso del settore. Prevista l'erogazione di pasti per 76 ospiti, riconfermato il direttore del centro servizi anziani e l'avvocato Antonio Orsini. Poi in basso furto alla Publidea c'è un indagato, un piccolo imprenditore straniero, perquisizione dei carabinieri, portato via materiale di sospetta provenienza. E poi in basso violenze al campo scuola in due a giudizio. Andiamo nella Marsica, ecco la pista ciclabile più bella d'Italia attraversa tre parchi. La decisione della regione di varare l'opera nel masterplan mette d'accordo tutti i politici. Il sindaco di Tagliacozzo l'ho voluta io, accordo tra provincia e 11 comuni, si snoda per circa 140 chilometri. E poi la pagina di Pescara, targhe alterne, PD alla resa dei conti, il provvedimento anti-smog rialimente a malumori nel partito. Nel Merino c'è Del Vecchio, stasera direttivo per scelte condivise da stanotte il lavaggio delle strade. Occhio ai divieti di sosta, domani circolano solo auto e moto pari. Giovedì le dispari. Il sindaco tira dritto per non rischiare un'altra inchiesta dopo l'ordinanza sul mare inquinato. rimasta nel cassetto. E poi rogo nella notte a Montesilvano una smart divorata dalle fiamme. Un boato e le fiamme hanno svegliato l'intero quartiere, l'auto appartiere a un giovane. Si segue la pista sentimentale. La pagina di Chieti, l'appello di forte ai sindaci, fare il bene di tutti. L'incontro voluto dall'arcivescovo con la classe politica, Legnini e Dallatorre, due relatori nella sala. Nessun parlamentare. E poi abusi sessuali sulla dipendente chiesto giudizio per un settantenne. A vasto i vandali distruggono le strutture del presepe. Pagina di Teramo, il nuovo teatro comunale sarà una fucina di talenti. Finita la gestione Spinozzi, ora tocca alla Solti, corsi per avvicinare i giovani a danza e musica. Restano gli appuntamenti classici, lirica e la gestione di prosa. Della Riccitelli, il sindaco Brucchi, per il momento la giudicazione è provvisoria perché manca ancora parte di documentazione. Poi a Giulianova due tentativi di furto a negozio e chalet. I commercianti lamentano anche la scarsa illuminazione della zona durante la notte. Sempre a Giulianova, linea retta, denuncia, debito fuori bilancio, senza documenti. E poi, tornando alla politica, ma a Teramo, nuova giunta, venerdì 15, di sabatino sei assessori. Il gruppo di Futuro In è il più numeroso con sette consiglieri, ma resta il rebus Mimmo Sbraccia. Lasciamo il messaggero e ora andiamo a vedere, e così apriamo l'ampia pagina, come sempre, dedicata allo sport, il lunedì, nella rassegna del lunedì mattina. Andiamo a vedere la prima pagina della gazzetta dello sport, chiaramente fari puntati sulla volata per il titolo d'inverno che ha avuto ieri il suo epilogo. Napoli, manita sullo scudetto, schiantato il frosinone con altri due gol del Pipita ed è campione d'inverno. De Laurentiis, Blinda Sarri e ora due rinforzi. E poi Juve presa l'Inter, vetta a meno due, Di Bale inventa, Pogba e Chedira segnano. Alla Samp non basta Cassano, per Allegri nono successo di fila e secondo posto. Poi, sempre in prima pagina, praticamente internamente dedicata al calcio, che spreca i mancini, punito al 94esimo da Berardi. E poi, ai Garcia e ai Saluti, Roma spunta Leonardo, il tecnico è sempre più in bilico dagli Stati Uniti, il presidente Pallotta, la squadra non sa più vincere, ci fossi io lì, puntini puntini. E poi, Palermo ok, ma Ballardini trema, Sorrentino giochiamo da soli. E poi, alcuni richiami, il caso Locri, questione di soldi, non di mafia, le ragazze. Continuiamo. Basket, Milano al lavoro per Bargnani a luglio. E se arrivasse subito, visto che sta trovando pochissimo spazio con i Brooklyn Nets nella NBA. E poi, pagina 2 e 3, ovviamente a tutto Napoli. Napoli è primo, cinquina a Frosinone e titolo d'inverno. Spettacolo, Higuain è proprio il personaggio della partita, tanto per cambiare il Pipita, che è da record, quasi un gol a partita. ha cancellato Cavani, il centramente argentino è in forma splendida, ha chiuso l'andata da capocannoniere, tornando anche a tirare i rigori. E poi, i commenti, in particolare del presidente De Laurentiis, che brinda Sarri e alza l'asticella. Ora, due rinforzi, torneo spettacolare. Inseguiamo Maximovic, Herrera e Kramer. Sorriano non serve. E poi, Inter, che spreco, la beffa è di rigore, ma che sassuolo. E c'è l'esplosione mancata di Condogbia, un gigante impaurito dai contrasti troppo light, come piccolo il Kondo. E poi, ancora, vediamo uno sguardo a qualche altra pagina, Juventus a Forza 9, Pogba e Chedira, agganciano l'Inter, Cassano non basta, il personaggio è Pogba, Paul, il mito Jordan è quell'ossessione di essere decisivo. E poi, ancora, andando avanti, la crisi del Milan, Garzia, perdone, della Roma, ma quella parziale anche del Milan, c'è questa due pagine. Garzia, hai saluti, l'ira di pallotta fosse a Roma, e c'è l'idea Leonardo. E nell'altra pagina c'è un Boa, nel Milan è stritola in più mosse, Boateng che ha fatto il suo riesordio, proprio nella partita di Roma. E poi, la Fiorentina sconfitta in casa dalla Lazio, la solitudine del numero 9, Kalinic è perso senza Ilicic. Direi che per la Gazzetta dello Sport possiamo chiudere, prima però guardiamo anche questa pagina dedicata al caso Locri, Andrangheta, no, soldi, ma quelle ragazze non vogliono smettere. Questa, dunque, è la pagina dedicata al caso Locri dalla Gazzetta dello Sport. Prima di proseguire andiamo di andare in pubblicità. Vediamo anche la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche in questo caso, fari puntati sulla volata per il titolo d'inverno e il verdetto conseguente. Napoli, campione d'inverno, la Serie A si tinge d'azzurro, Sarri è davanti a tutti. Straordinaria dimostrazione di forza, 5-1 a Frosinone, Higuain a quota 18, numeri da Scudetto, e i tifosi sognano. De Laurenti scompro e riporto Maradona da noi. E poi, sotto la testata, l'Inter spreca e cade, Juve inesorabile, E9, il Sassuolo passa al 95esimo, Samp-KO, i bianconeri secondi. E poi c'è l'opinione del direttore Alessandro Vocalelli, De Laurentiis e il cerchio perfetto. In basso, Palermo vince, ma Sorrentino rivela l'elite, Ballardini nel caos. Poi si decide a Miami, Roma un blitz da pallotta, García-Barcolla. Noi ora ci fermiamo, poi riprendiamo con una sfogliata al Corriere dello Sport, poi passeremo ai quotidiani locali, pagine sportive chiaramente, e vedremo anche tanti servizi. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con Mattino 6 del Corriere dello Sport, entriamo all'interno per una rapida sfogliata, addirittura quattro pagine abbondanti dedicate al titolo d'inverno del Napoli. Vediamo qui, Napoli, gol record da Scudetto, e a pagina 3 è show Iguain. Siamo primi e lo meritiamo, e le parole in basso di Sarri. Possiamo ancora migliorare. Il Napoli incanta a Frosinone, a Zurri spietati, apre al Biol, chiude una magia di Gabbiadini. Poi segnaliamo anche queste altre pagine, fuori a Napoli, Daurentis chiama Maradona con noi, e poi Amsic magistrale, al Biol, un leader vero, a lezione da Giorginio. Ci sono poi da vedere altre pagine che segnaliamo. questa Sorrentino noi vinto da soli, un attacco senza precedenti a Ballardini, non ci ha parlato né prima né dopo. Una sorta di esonero in diretta, fatto non dal presidente, ma addirittura dal portiere, e capitano nei confronti dell'allenatore. E poi ancora, vediamo qui, speciale Fuzzal, una festa contro le paure, all'Ocri, gol, tifo e spettacolo, Tavecchio, tornare a giocare, una grande vittoria per le ragazze dello Sporting. E poi ancora, la pagina sulla Serie B, Latina Somma, scintille e addio, Ascoli da Minuta, Calori di Cagno e Gautieri per l'eventuale successione all'allenatore del club Pontino. E poi, nuovi soci per il Pescara, che è pronto a chiudere l'affare Domizzi, con l'Udinese. Poi, ancora, per il Bari del pescarese, Andrea Camplone, Minala, apre il mercato, appunto, di Camplone, che sta per debuttare sulla panchina del Bari. Prima di lasciare il Corriere dello Sport, la pagina dedicata a un'impresa del pugilato, quella di De Carolis, e adesso Sogno Roma, e campione mondiale WBA dei supermedi. Vorrei difendere il titolo nella mia città. Un titolo che è stato conquistato sabato, mettendo K.O. all'undicesima, ripreso il suo avversario tedesco, titolo colto in Germania. Una vera e propria impresa, quella del pugile romano. possiamo ora andare ai quotidiani locali. Partiamo dal centro, l'inserto noi di sport. Pescara, il patto del trabocco, gli imprenditori del pranzo di sabato, pronti ad aiutare il club, con la benedizione della politica. E poi ancora, ci sono questi richiami, ciclismo, sabato, la festa regionale, ecco l'elenco dei premiati, calcio a 5, Pescara e Acqua e Sapone, si impongono in trasferta, palla a volo, dia 2, si è coinpavida, rimaneggiata, cade in casa, con l'Emma Villas Siena, Virtus Lanciano, Mammarella e Di Francesco Valigie, pronte. E poi, la LND, i campionati dilettantistici, Serie D, Chieti, San Nicolò, senza vincitori, Lavezzano si inchina, eccellenza, botta e risposta, tra Vastese e Paterno, l'angolana risale. Promozione, quattro squadre in vetta al girone A, che è ammucchiata. E poi, ecco la pagina sul Pescara, gli imprenditori pronti a sostenere il Pescara, c'è la disponibilità a collaborare, entrando in società con sponsorizzazioni, durante il pranzo appunto al trabocco di sabato, un vertice in cui hanno preso parte diversi imprenditori, e anche alcuni big della politica, in particolare il governatore D'Alfonso, le parole di Vincenzo Marinelli, spero e mi auguro che qualcosa si possa concretizzare, il progetto per il nuovo stadio è un altro degli argomenti caldi in discussione. E poi ancora reazioni contrastanti nel mondo del web, da una parte chi bacchetta i politici, dall'altra chi elogia l'operato del presidente Sebastiani. Andiamo a vedere invece il messaggero, la pagina dedicata al Pescara. Ecco qui, il Pescara riparte da Valoti, il centrocampista per ora non ha chiesto di essere ceduto, e Oddo potrebbe utilizzarlo da mezz'ala al posto di Memushai. A quel punto la società potrebbe rinunciare al rinforzo a metà campo, in attesa di eventuali occasioni last minute. Non c'è fretta nella scelta del difensore, il tecnico rinforzo decisivo, che non possiamo sbagliare. E poi ancora oggi la festa delle donne biancazzurre, e c'è quest'altro articolo, il Delfino Manovra, per tenere Ben Ali. Noi invece andiamo ad ascoltare le parole del difensore Alessandro Crescenzi, uno dei giocatori più continui nel girone d'andata dei biancazzurri. Adesso abbiamo riniziato a correre pure tanto, e niente, ci stiamo preparando per la partita di Livorno, e speriamo di fare una buona prestazione, di portare i tre punti a casa, che per noi sono fondamentali. Prima ci stiamo preparando il meglio, stiamo spingendo questi giorni, per poi passare alla settimana tipo della prossima settimana. Per quanto riguarda il Livorno, vogliamo, tra virgolette, una rivincita, perché all'andata sappiamo tutti come finì. loro non stanno passando un buon periodo, invece noi dobbiamo continuare su questa strada, quindi i tre punti per noi sono fondamentali. La squadra sta crescendo su tutti i punti di vista, secondo me, anche a livello psicologico, sta cambiando mentalità, siamo una squadra più forte mentalmente, e questo anche grazie al rientro magari di Ugo, però siamo convinti delle nostre qualità e vogliamo continuare a stupire e continuare a crescere. Loro vengono da un periodo di crisi, quindi vorranno uscire da questo periodo. Noi però non vogliamo uscire dal nostro e niente, daremo battaglia al Livorno e loro dovranno stare molto attenti. Momento sicuramente opposto in casa Virtus Lanciano, vediamo sul messaggero. Virtus è il momento delle decisioni chiave, gennaio fondamentale per verificare se arriveranno i rinforzi per cercare la salvezza. Da una parte Imaio e l'allenatore da Versa che ci credono, dall'altra la realtà dei punti. E il Rebus è chi scenderà in campo con la Provercelli, un Rebus anche alla luce di eventuali ulteriori partenze in settimana. Non è più il tempo di parole, servono fatti per sperare nella permanenza tra i cadetti. Nel mirino della Virtus ci sono Vitale e Kinn dalla Juventus. Ora vediamo sul centro cosa si dice del Lanciano. Mammarella verso Bari, il Novara su Di Francesco. In settimana è destinata ad allungarsi la lista degli addi nella Virtus Lanciano. Per quanto riguarda gli arrivi si parla di Lazzari è salviato, oltre che dei baby Juve. E poi in basso il rapporto ai titoli di coda. All'orizzonte c'è anche il divorzio tra il DS Leone e Imaio. E ora vediamo la pagina sulla Lega Pro, il punto sulle Abruzzesi. Campitelli al Teramo serve un bomber per salvare l'anno. Il patrone biancorosso traccia il bilancio del girone d'andata. Finora meritiamo il 6, ma bisogna conservare la categoria. E poi l'Aquila certamente sorride di più per i risultati sul campo, ma oggi scatta il processo sportivo. Chi odia il processo? Se ci tolgono 20 punti è uno scandalo. Il presidente Rosso Blu scaccia i fantasmi sul calcio scommesse. La nostra responsabilità oggettiva è tutta da provare. Veniamo anche sul messaggero le pagine sulle squadre di Lega Pro. L'Aquila al processo è l'ora della verità. Dirti Soccer, gli avvocati provano a evitare sanzioni per tre partite, ma si teme che la Procura federale voglia usare il pugno duro. Questa mattina prende il via a Roma il giudizio. I Rosso Blu sperano di evitare la stangata. Qui vediamo una foto con l'ex dirigente aquilano Di Nicola, l'avvocato d'Amelio, anche se ora a difendere Di Nicola. C'è anche quello che è stato l'avvocato di Luciano Moggi a Calciopoli, ovvero Mauriglio Prioreschi. Pesoli è fatta in arrivo. Il portiere Scotti, questo sul fronte del calcio mercato, sempre per l'Aquila, tra calcio mercato e una squadra che non gira il Teramo. Teramo, adesso i tifosi rivolgono Di Giuseppe Di Esse. La squadra non gira, ma l'ex dirigente sarà out per quattro anni a causa della condanna inflitta dagli organismi di giustizia sportiva per l'inchiesta su Savona Teramo. in questo momento l'incarico di Di Esse è affidato a Gianluca Scacchioli. Serve un bomber nel mirino forte della Cremonese. Andiamo noi ora ad ascoltare invece il portiere del Teramo, Alessandro Tonti, dopo lo 0-0 contro il Pontedera. Tonti, alla fine è una rimessa in gioco, proprio allo scadere, quasi volessi spingere la squadra verso quel gol che però non è arrivato. Non è arrivato, ci abbiamo provato in tutti i modi. Secondo il mio punto di vista abbiamo fatto un'ottima prestazione, però purtroppo quando la palla non entra, non entra. Ha avuto un'occasione molto importante, ci pioni alla fine, però le partite sono fatte di episodi, se non la butti dentro purtroppo non si vincono le partite. Però l'impegno c'è stato, la prestazione c'è stata, abbiamo corso 95 minuti, ce l'abbiamo messa tutta e quello è l'importante. La parrata più difficile è quella del primo tempo su Buonaventura, quella è una ripresa su Scappini? Quella sul primo tempo su Buonaventura, che non l'ho vista nella partita, mi è apparsa l'ultimo la palla, però ripeto, abbiamo fatto un'ottima prestazione tutti e dobbiamo partire purtroppo da quello. Si gira, comincia il gerone di ritorno, è chiaro che dal termo ci si aspetta qualche punto in più. Ci si aspetta qualche punto in più, sono convinto anche io, però ripeto, non è facile. Adesso siamo ripartiti, penso, al migliore dei modi, facendo un'ottima prestazione, ripeto, però non basta solo l'ottima prestazione, vorrei dire che dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. Ed ora la serie D sul messaggero derby, un punto a testa, ma il Chiedi recrimina decisivi gli episodi, Dosanto si è spulso alla fine del primo tempo, Nero Verdi in dieci, poi Fiore calce e Terrenzio respinge con il braccio, ma l'arbitro non concede il rigore, nonostante la superiorità numerica, e Terramani non affondano i colpi. Il presidente, il patron del Chiedi Pomponi dice, in campo c'eravamo solo noi, per il tecnico ospite Epifania, una buona iniezione di fiducia. Amiternina orgogliosa e sfortunata a Campobasso, sconfitta per 2 a 0, poi Sambe spietata, Avezzano si arrende, accade tutto nella ripresa, 1-2 dei marchigiani, Moro accorcia e tabacco spreca, Giulianova buio pesto, il materico è troppo forte, finisce 4-0 scatenato, l'ex giallorosso esposito, un palo colto da Pellecchia, l'unica vera occasione per riaprire la partita. E poi andiamo sul centro, anche in questo caso a vedere le pagine sulla serie D, Avezzano si inchina, la capolista San Benedettese va avanti, 0-2, poi Moro accorcia, la sconfitta ridimensione i biancoverdi che non riescono a incidere nella fase offensiva, il tecnico Lucarelli, nel primo tempo abbiamo giocato ad armi pari, contro 1 squadrone, poi il poker dei marchigiani, l'ex esposito, 3 gol, condanna il Giulianova a Matelica, il gol è il grande assente tra Chieti e San Nicolò, derby al di sotto delle aspettative, condizionato da vento e terreno mal ridotto, Neroverdi in 10 per tutta la ripresa, si è espulso Dos Santos per un colpo a Terrenzio, Ronci soddisfatto, Epifani buon punto, le reazioni nel dopo partita, poi a Mitterlino altri due errori fatali a campo basso, giallorossi sconfitti dai morisani, con due gol nella ripresa, Angelone che sfortuna, è ora spazio ai servizi di serie D, ci andiamo a vedere proprio il pareggio tra Chieti e San Nicolò, la sconfitta della Vezzano con la San Benedettese, quella del Giulianova a Matelica. Archiviata la ricca Befana, Chieti e San Nicolò scendono all'Angelini per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, con pagini ritoccate nei vari reparti, pronte per confermare la vitalità benagurante di inizio anno, che si evidenzia nel primo innesto offensivo dei Teatini, che imbarazzano la difesa teramana, che si rifugia in calcio d'angolo. La risposta propositiva dei Biancoazzurri arriva in velocità e giusto tempismo, con De Santis, che caparbiamente penetra nella tre quarti e traversa, ma la posizione degli offensivi ospiti è viziata da fuorigioco, tant'è che la rete di Merlonghi è annullata dall'assistente, signor Di Tommaso. Il Chieti non lascia la partita agli avversari e cerca di verticalizzare, e al ventiquattresimo sorprende l'attenta difesa teramana, che fa muro con l'estremo calore, che nell'intervento si infortuna. Le risorse dei Teatini al trentanovesimo mettono in luce l'individualità di Vitale, che sferra un preciso bolide, neutralizzato con i pugni dall'eccellente portiere Biancoazzurri. Ma dopo la bella nota positiva, arriva l'atto negativo, che cambia volto alla gara, l'assistente filannino richiama l'attenzione del direttore di gara, riferendo di una gomitata di Dos Santos al centrale difensivo Terrenzio. Cartellino rosso, dubbi interpretativi sul provvedimento disciplinare e vibranti proteste degli spettatori, che rincarano la dose quando la terna arbitrale sancisce la fine del primo tempo. La contesa riapre con il Chieti rabbioso e deciso a non soccombere, Ronci ridisegna il quadro offensivo con la posizione di Varone molto più avanzata. Al quinto lo stesso centrocampista dialoga in corsa con Fiore e gira verso la porta avversaria con intuito, ma con poca incisività. Si ripete il Teatino a quattordicesimo, ma senza grossi sussulti per i Terramani, che hanno gioco agevole nell'amministrare il possesso palla e razionalizzare gli spazi di manovra. Gli allenatori inseriscono forze nuove in campo. Il Chieti a quattordicesimo sostituisce Mariani con Pietrantonio e Molenda con Comini. Il San Nicolò al diciottesimo, De Santis con Chiacchiarelli. Benché sorretta dalla volontà, i neroverdi non subiscono passivamente la qualità del gioco della squadra di Epifani, che al trentaquattresimo con Bucchi spreca una ghiotta occasione, che poco dopo si presenta al Chieti con Fiori, che elude la marcatura del diretto avversario, ma la conclusione è ribattuta da Brighi, su cui si reclama un presunto intervento di mani. Piovono ancora protesta sul signor Votta, che concede solo l'angolo e non sortisce alcuna opportunità per infilare la porta di calore. Cinque minuti per patrimonializzare l'impegno profuso dai teatini, ma il San Nicolò è convinto, non si scompone e tra decisioni arbitrali discutibili, il derby si conclude con un pareggio non cercato, ma sancito da quello che la gara ha offerto, con i 20 gradi in campo e con gli atleti che in tenuta estiva guadagnano la meritata doccia. Grazie alle reti di Sabatino e Titone, la capolista sanbenettese spugna con il risultato di 2-1 il Dei Marsi di Avezzano, rispondendo così alla secca vittoria del Matelica e mantenendo il primato con sei punti di vantaggio sui Cugini. Per i ragazzi di Mister Palladini quella del Dei Marsi non è stata certo una passeggiata di fronte ai marsicani che incassano il secondo K.O. di fila dopo la battuta d'arresto di Teramo con il San Nicolò. Si comincia dinanzi ad una cornice di pubblico importante con oltre mille spettatori di cui la metà giunti dalle marche. Campo di gioco in pessime condizioni e molto allentato. L'avvio è dei Biancoverdi, al terzo infatti Conson deve intervenire in scivolata per intercettare una conclusione di Bisegna appostato sul secondo palo. All'undicesimo Avezzano pericoloso con Puglia che da ottima posizione chiama alla parata il portiere Pegorin prima dell'intervento di Di Genova che era però terminato in fuorigioco. La risposta ospire è affidata al tredicesimo a Sorrentino che dopo un servizio perfetto di Barone controlla la sfera e tira su Davino che respinge. La gara è davvero godibile giocata su ritmi forsennati. Al sedicesimo si rivede infatti la formazione di casa con un tiro centrale di Puglia parato a terra da Pegorin. I padroni di casa dimostrano di non avere nessun timore riverenziale nei confronti della capolista che però al ventiduesimo con Titone va ancora vicinissima al vantaggio con un tiro a fil di palo. Passa un solo minuto e Bisegna chiama Pegorin al salvataggio in angolo con una conclusione velenosa che non inganna l'estremo ospite ma l'occasione più ghiotta capita al ventiseiesimo a Titone che a due passi da Davino alza incredibilmente sopra la traversa. La gara si mantiene comunque equilibrata con il finale di tempo che vede al trentacinquesimo un tiro al lato del capitano Avezzanese Tabacco da posizione angolata nell'area marchigiana. L'ultima emozione arriva invece al quarantaquattresimo quando Titone smarca Sorrentino che scarica addosso centralmente su Davino affrettando la sua conclusione. Nella ripresa al quinto c'è un tiro di Titone dal limite con Felli che in scivolata devia in corner. Gli ospiti chiedono il rigore per un sospetto tocco con la mano che probabilmente non c'è. Gli ospiti ci riprovano poi anche al dodicesimo con Sorrentino che di piatto dopo un'ottima azione di Titone riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere Davino per il gol del vantaggio. La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare così al ventiduesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Sabatino a colpire male di testa permettendo alla difesa vezzanese di respingere. La scossa la dà il neoentrato di Curzio che al trentaduesimo in area chiama Pegorin alla respinta con i piedi. Ma la capolista in agguato sul capovolgimento di fronte trova il raddoppio con Titone che non lascia scampo a Davino. L'Avezzano non ci sta e al quarantunesimo il neoentrato Moro di testa riaprire la gara e a regalare Brio al finale che vede al quarantasettesimo il miracolo di Pegorin sulla punizione di Bisegna e poco dopo l'incredibile errore di tabacco di testa a due passi dal portiere marchigiano. Vittoria esposito stratosferico una tripletta almeno altre tre occasioni per andare in gol assist a volontà. Il grande ex di turno piega il giovane Giulianova costretto alla resa al cospetto di un grande giocatore. Il Matelica continua la sua rincorsa alla San Benedettese 4-0 il risultato finale. Ci sta perché i marchigiani hanno sofferto poco hanno amministrato bene le giocate il Giulianova le sue due e tre occasioni le ha anche avute ma sotto porta ha sbagliato incredibilmente. Certo non era contro il Matelica che i giallorossi potessero sperare di fare punti salvezza ma un dato è emerso rispetto alla gara di metà settimana contro il Fano seppur perdendo l'undici giuliese aveva offerto una prova molto più convincente. Tra gli ospiti non c'è il portiere Proietti seppur tesserato in settimana ma non disponibile perché deve finire di scontare due giornate di squalifica rimediate nel campionato di Serie B Svizzero sarà a disposizione dopo la sosta. Sin dalle prime battute si capisce che il possesso palla sarà dei padroni di casa che chiamano in causa Ursini a più riprese. L'estremo giallorosso chiude bene lo specchio della porta e ci mette più di una pezza quando Esposito si presenta tu per tu. Nonostante il gran volume di gioco il Matelica non riesce a sfondare il muro abruzzese anzi la truppa giuliese ha l'occasione di sbloccare al quarantunesimo Marzucco si ritrova il pallone a due passi dalla porta ma spara clamorosamente alto. Ad un minuto da riposo i locali sbloccano una gara che rischiava di complicarsi la firma è di Pesaresi che manda la sfera all'angolino basso dove Ursini non può arrivare con il vantaggio acquisito tutto sommato meritato la formazione di Clementi torna negli spogliatoi rinfrancata nella ripresa la musica non cambia molto il Giulianova dà solo l'impressione di avere un certo possesso palla ma intorno al quarto d'ora su punizione Esposito fa passare la palla sotto la barriera sorprendendo Ursini per il 2 a 0 i giallorossi la partita la potrebbero anche riaprire ma Pellecchia timbra il palo e a Di Stefano non riesce il tapin così arriva il 3 a 0 di Esposito al 24esimo il talentuoso attaccante calerà il poker per i suoi al 33esimo chiudendo di fatto i conti senza neppure esultare più di tanto quasi per rispetto della sua ex squadra nonostante i tifosi giuliesi lo avessero beccato per quasi tutta la partita il finale di gara è solo pura accademia alla fine applausi per tutti anche per il Giulianova che è alla ricerca sul mercato di un attaccante per risolvere i problemi in fase offensiva il Matelica resta in scia samb andiamo verso la parte finale della nostra rassegna dal centro il basket campionato fermo di A2 ma ci si concentra sul momento delle due squadre McEnergy si prepara a 5 turni terribili con l'occhio ai playoff Roseto solo a gennaio Verona Brescia Mantova All Star Game Brilla Marini Allen miglior giocatore la Proger si gode il momento magico e pensa al Treviglio Chieti mercoledì al Palatricalle partita amichevole con la Wirortona l'incasso in beneficenza per il calcio a 5 il Pescara si prende la vetta a questa pone che rimonta seria maschile il Cogianco si inchina sotto i colpi di Rescia Lara e Betau gli uomini di Bellarte si impongono con Burrito a un secondo dal fine e poi per il volley di A2 un asieco di carattere ma non basta Lemma Villas trascinata da Maidac si conferma bestia in era degli ortonesi bella prova di fiore pesa l'assenza di Paoletti sconfitta dunque in 4 set parziali 15-25 25-22 22-25 26-28 le parole dell'allenatore Lanci mai mollato peccato per l'avvio andiamo con il messaggero calcio a 5 il Pescara da leader si impone a Genzano biancazzurri padroni nel primo tempo poi gestiscono la gara e vincono 2-3 vittoria invece 3-4 per l'acqua e saponi il gol di Burrito alla fine regala la vittoria appunto all'acqua e saponi i nerazzurri di Bellarte soffrono rischiano ma poi passano sul parquet della Lazio poi ancora per il volley è un'ottima sieco ma la spunta Siena Ortona dopo un inizio in Sordina gioca forse la miglior gara della stagione senza riuscire a spuntarla anche a causa di un organico molto rimaneggiato tra i biancazzurri alla lunga pesano le assenze di Paoletti e del paleggiatore Andrea Lanci il coach invece Nunzio Lanci difficile chiedere di più a questi ragazzi per chiudere il calcio di eccellenza vastese di rigore Montorio Furioso l'allenatore De Amicis contesta l'assegnazione del penalty decide gli abboni dal dischetto la capolista sempre in marcia solitaria padroni di casa hanno tenuto botta molto bene ma poi si arrendono nella ripresa tensione nel finale poi boom boom stornelli paterno corsaro a celano per 3 a 1 e quindi la classifica dice ancora che la vastese è prima con 45 punti 3 punti di vantaggio sul paterno e poi staccate tutte le altre a cominciare dal pineto terzo con 35 punti e siamo alla fine di questa nostra rassegna stampa di questa nostra edizione di mattino 6 vi ricordo le edizioni del TG alle ore 14 19 e 23 e poi questa sera non mancate l'appuntamento con replay di Enrico Rocchi in diretta a partire dalle ore 21 grazie a Claudio Di Giacomo in regia grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a tutti